Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura il tema dell'inquinamento con la lotta agli scarichi abusivi nel fiume e nel mare. Questa mattina il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, si è calato all'interno di un canale di scolo contaminato da alcuni scarichi abusivi e ha dapposto i tappi ad aria compressa personalmente agli scarichi. Allora andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. E' un'azione dimostrativa che ha il valore di togliere dalla insensibilità un argomento di questa portata che toglie bellezza ai fiumi, bellezza al mare e pone anche costi straordinari nei momenti eccezionali. Per cui era ed è necessario non solo fare ciò che è dovuto, ma è necessario anche ripristinare una condizione di moralizzazione collettiva che riguarda gli amministratori pubblici, ma riguarda anche gli imprenditori, la cittadinanza che deve quando sa contribuire a ricostruire le responsabilità. In questo caso, per esempio, abbiamo trovato tre scarichi abusivi che adesso abbiamo otturato con un sistema ad aria compressa che diffonderemo dovunque ci sono gli scarichi abusivi e poi ricostruiremo le responsabilità. Finisce qui? No. Noi vogliamo anche ripristinare una condizione di normalità, anche dando luogo domani ad una rinaturalizzazione dal punto di vista della vita delle imprese che hanno incontrato negli anni passati queste difficoltà. Quello che è certo è che se non ci mettiamo insieme noi continueremo a fare lavori o a monte o a valle che poi puntualmente produrranno inquinamento, alti costi rispetto al mantenimento della bellezza e danneggiamento rispetto alle stagioni turistiche e anche costi elevatissimi rispetto alla straordinarietà di alcuni interventi di bonifica. Noi oggi abbiamo fatto una riunione, abbiamo puntualmente, millimetricamente stabilito quando comincia ogni intervento dei 36 milioni di euro contrattualizzati per potenziare i depuratori. Dei comuni che operano lungo l'asta fluviale, i depuratori anche al servizio del sistema industriale, ma abbiamo anche dichiarato guerra le cosiddette fosse IMOF, che è un sistema di depurazione che si affida in termini rinunciatari alla natura. E' un lavoro mai fatto nei decenni passati che noi vogliamo fare sapendo che c'è bisogno di risorse finanziarie, ma non solo di risorse finanziarie, anche di una grande conoscenza puntuale del territorio e di un'appropriazione collettiva da parte di tutti i cittadini. E come abbiamo ascoltato dalle parole del Presidente D'Alfonso, questa mattina nella sede di Viale Bovia Pescara della Regione Abruzzo si è tenuta una riunione con i sindaci, gli enti preposti e la provincia di Pescara per decidere le azioni per combattere l'inquinamento dell'asta fluviale del Pescara. Una riunione in cui, lo abbiamo ascoltato, sono stati fissati obiettivi e cronoprogramma. Si è svolta stamattina la riunione tanto attesa tra i sindaci della provincia di Pescara, i tecnici di Arta, quelli di Aca, i funzionari della Regione, la Polizia Provinciale e le istituzioni regionali. Il caso sul tavolo è quello dell'emergenza e inquinamento sul fiume Pescara, della rete fognaria, degli impianti di depurazione. Il Governatore D'Alfonso ha ascoltato tutte le parti e ha chiesto un cronoprogramma dettagliato di ogni azione che dovrà essere messa in atto da ogni comune. L'Aca ha spiegato che i lavori saranno suddivisi in sette macro aree. Il lavoro è tanto, nel senso che sono circa 15 milioni di investimenti su tutto il territorio, prevalentemente la provincia di Pescara, ma ci sono anche degli interventi sulla provincia di Chieti, Francavilla prevalentemente, e qualcosa sul Terramano. Quindi sono interessati circa 15 impianti di depurazione. I lavori noi stiamo programmando per iniziarli entro fine marzo, inizio di aprile, sperando di completarli entro l'anno. I tecnici dell'Arta hanno invitato comuni ed enti e soprattutto la regione a realizzare un piano più capillare dei controlli sul territorio, proprio per combattere alla radice il fenomeno dell'abusivismo, quello che crea livelli altissimi di inquinamento. Tutto il meccanismo dei controlli sui depuratori richiede, sulla base di una delibera regionale del 2004, un accordo di collaborazione tra enti gestori, quindi del ciclo idrico integrato, l'Arta, e anche in parte le province che sono quelle che sono deputate a emettere la sanzione in caso di superamenti. Ecco, laddove in particolare gli enti gestori devono garantire un certo numero di campionatori continui. Questa collaborazione sull'intera provincia dell'Aquila non c'è. Non c'è sull'intera provincia di Chieti, c'è invece e funziona nella provincia di Teramo e su Pescara. Le sanzioni dovrebbero essere più severe perché molto spesso sono talmente blande che non coprono neanche le spese della corrente elettrica da parte di chi magari sta inquinando e perché ha spento il depuratore. Nella relazione effettuata dal presidente della provincia di Pescara, che ha sottolineato più volte le difficoltà per i piccoli comuni in ambito economico e di intervento, ha spiegato anche l'implementazione del 30% nell'ultimo anno dei controlli sul territorio da parte della polizia provinciale. Sulla provincia di Pescara i controlli continuano sul fiume Pescara principalmente, ma anche su tutti gli altri, sugli affluenti del Pescara, ma anche sul Saline e quelli magari meno conosciuti, il Tavo e quant'altro. Noi continuiamo a monitorare, a controllare gli scarichi, soprattutto anche in collaborazione con il nostro settore dell'ambiente che ci fornisce informazioni, o da quelli che raccogliamo sul territorio, dall'informazione delle segnalazioni e cerchiamo di individuare le zone dove gli scarichi non sono regolari e poi procederà alle contestazioni in merito. Le sanzioni sono sia amministrative che di carattere penale, generalmente quelle penali sono relative agli scarichi industriali. Quelle amministrative non sono indifferenti perché vanno da 6.000 a 60.000 euro. La riunione si è chiusa con la richiesta di velocizzare i tempi per quanto concerne i progetti da presentare entro i prossimi 15 giorni, per avviare così entro il mese di maggio i primi lavori. E adesso voltiamo pagina alla cronaca giudiziaria nel processo penale per il crollo della Casa dello Studente all'Aquila, dove la notte del sisma del 2009 morirono 8 studenti. La prescrizione è prevista ad ottobre di questo anno. Nel processo penale invece le parti coinvolte fanno scarica a barile sulle responsabilità. Giorgio Alessandri. Si torna a parlare del crollo della Casa dello Studente e dei relativi processi, come da copione riparte anche l'indecoroso scarica a barile rispetto a quella strage. A denunciarlo è Antonietta Centofanti, portavoce del Comitato Familiare Vittime Casa dello Studente. All'indomani degli articoli di stampa in cui sono riportate le dichiarazioni dell'Avvocato Vagna della Vigna, che rappresenta i ragazzi sopravvissuti, e Michelone, lo studente israeliano morto nel crollo. Secondo della Vigna, la Regione Abruzzo starebbe evitando di assumersi le proprie responsabilità di fronte alle parti civili, chiamando in causa le presunte colpe di altri soggetti, lo Stato, un immobiliare, e fino anche l'ADSU, agenzia di proprietà della stessa Regione. L'ente avrebbe scaricato innanzitutto sullo Stato centrale, attraverso il Ministero dell'Istruzione e l'Università dell'Aquila, per aver acquistato l'edificio incurante del deficit di carenza strutturale che soffriva. Poi l'Angelini, immobiliare che ha progettato l'immobile e che, secondo la Regione, non l'avrebbe fatto costruire secondo le normative. E infine anche l'ADSU, per il ruolo di custode esclusivo dell'edificio. A sua volta, per Della Vigna, sarebbe anche la stessa Agenzia per il diritto allo studio universitario a fare scarica a Barile sulla Regione, in quanto proprietaria dell'edificio. Un gran caos, insomma. L'udienza civile è stata aggiornata a giugno. La Regione Abruzzo, prosegue la Centofanti, tira in ballo lo Stato, l'Università, l'ADSU, l'Angelini e gli imputati condannati nei primi due gradi di giudizio. Ed è solo l'inizio di un gioco sporco nel quale ciascuna delle parti, a vario titolo coinvolte, cerca di scrollarsi di dosso la responsabilità di quanto accaduto. Questo scenario, prosegue la Centofanti, si fa ancora più vergognoso se prendiamo in esame il rischio di prescrizione per il processo penale prevista per il prossimo 6 ottobre 2016. I tempi lunghi di un'iter processuale, le sentenze ribaltate come nella Commissione Grandi Rischi, il rischio di prescrizione, sempre in agguato, lo rispondono certo al bisogno di giustizia dei familiari delle vittime, di strage e tragedie di ogni genere, denuncia la portavoce del Comitato. Il tributo umano che essi hanno dovuto pagare, serva perlomeno a cambiare la giustizia di questo Paese e ad abolire la prescrizione per i reati contro la vita, conclude la Centofanti, come lo è stato quello che ha consentito che otto ragazzi, intestuti di sogni, venissero sepolti sotto il collo di un edificio, impropriamente denominato Casa dello Studente, e mai messo in sicurezza. Se lo si fosse considerato per ciò che era diventato, uno studentato, ossia un luogo che ospitava ragazze e ragazzi, il loro futuro, la loro formazione, i loro primi amori, si sarebbero dovute porre in essere tutte le operazioni necessarie in termini di adeguamento e stabilità. Ancora cronaca, doveva scontare due anni e otto mesi di pena residua per l'assalto a un portavalori del Livri avvenuto nel 2006 sulla provinciale che conduce a Valle Castellana, in provincia di Teramo, dopo l'ordine di carcerazione, l'uomo però risultava irreperibile nella notte. Un trentenne romano residente a Teramo da anni è stato bloccato a Piano Daccio, sempre vicino Teramo, lungo la strada all'Ottanta, ad un posto di controllo da parte delle volanti della Polizia di Stato. Cambiamo decisamente argomento, entriamo a parlare della sanità fumata nera per la nomina del nuovo manager della ASL sul Monavezzano L'Aquila. La Giunta regionale ha rinviato la decisione, ma il nome di Rinaldo Tordera, da più parti indicato quale nuovo manager sembra perdere quota ogni giorno di più. Sembra ancora in alto mare la nomina del nuovo manager della ASL sul Monavezzano L'Aquila. E il nome su cui sembrava ormai essere stata individuata la quadra da giorni, quello del direttore dell'ASM, Rinaldo Tordera, divide il mondo del sindacato e della politica, con la Giunta regionale che ha rinviato ancora una volta la nomina delle rese di Giancarlo Silveri. Oltre alla dicotomia manager o medico alla guida della ASL, a creare più di un mal di pancia, sempre essere proprio la figura dell'ex direttore generale della Carispac. Un nome inaccettabile, secondo il consigliere regionale di Forza Italia, Emilio Jampieri, che reclama maggior coinvolgimento dei territori. Ancora più duri i sindacati. Una nomina come quella di Rinaldo Tordera, nuovo manager dell'ASL Aquilana, da quello che si vocifera, aprirebbe il campo a dei ricorsi. E anche noi come sindacato ci associamo a questa cosa, afferma il coordinatore provinciale sanità della Cisla, Gianfranco Giorgi. In relazione al fatto che l'ex direttore della Carispac, dato come possibile candidato alla direzione generale, figura negli elenchi di idonei di regioni come Lombardia e Toscana, ma non in quello dell'Abruzzo. Le nomine vanno fatte seguendo procedure corrette per evitare la paralisi amministrativa, aggiunge Giorgi. Un contenzioso sarebbe devastante. Sulla sesta linea, l'UGL, che attraverso il segretario provinciale Giuliano Vespa, annuncia il possibile coinvolgimento della magistratura, sembrerebbe, afferma la Vespa, sempre più vicina alla nomina manager dell'Asra Vezzano sul Monalacuila, dell'ex direttore Carispac, ex consulente della Edimo Fallita, attuale amministratore unico ASM e amministratore delegato di sviluppo Italia Abruzzo, Rinaldo Tordera. È noto a tutti che Tordera non rientra nell'elenco regionale degli idonei, dove, come scritto nella delibera di bando, bisogna attingere. Ma di tutto ciò, conclude la Vespa, non si tiene conto ed il duo cialente d'Alfonso non si preoccupa né dei ricorsi che scaturirebbero da questa nomina, né dagli atti che anche noi, come UGL, porteremo in procura. Insomma, una situazione in divenire che potrebbe risolversi anche nelle prossime ore con un finale sorpresa di chi Tordera. Candidato Papa esce cardinale dal conclave e con una nomina che alla fine potrebbe essere al femminile. In Lizza, Patrizia Masciovecchio, direttrice del Dipartimento di Medicina alle gare del San Salvatore. Andiamo avanti. Sandro Di Minco, il nuovo direttore generale dell'ARIT, Agenzia regionale per l'informatica e la telematica, che è stato nominato ieri sera dalla giunta regionale in sostituzione di Andrea Grilli. Di Minco, avvocato, è stato scelto per il suo curriculum e per il progetto presentato, giudicato convincente. Questa mattina Di Minco ha incontrato il presidente della giunta regionale, D'Alfonso, per mettere a punto i primi impegni operativi. Andiamo avanti. Si è svolta questa mattina a Teramo, presso la provincia, l'Assemblea dell'Assi, chiamata nuovamente dopo tre anni a scegliere il rappresentante dell'Ersi, l'ente unico per la gestione del servizio idrico. Elisa Leuzzo. Dopo tre anni si torna a parlare dell'Ersi, l'ente unico per la gestione del servizio idrico, perché in questi anni non si è mai riunito, costituito. Questo è l'ente sostanzialmente pubblico di livello regionale che deve garantire una programmazione di tutto il servizio idrico. Poi le gestioni saranno svolte in relazione al piano complessivo regionale dell'ambito dell'acqua. Nel frattempo sono cambiate le regole e cambiata la rappresentatività in seno all'ente e così oggi i sindaci della provincia di Teramo sono tornati a riunirsi per votare chi lo dovrà rappresentare. Un'unica indicazione, questa volta un solo rappresentante per provincia. Un ente che deve nel futuro programmare a livello di ambito regionale e poi anche di subambiti provinciali per quanto riguarda la gestione. La gestione intanto va avanti, i finanziamenti sono arrivati, ci sono importanti investimenti sia sulle condotte che sui depuratori in questa provincia di Teramo, adesso è necessario uscire dal commissariamento e ripristinare anche gli organi politico-istituzionali di programmazione e regolazione del servizio su tutto il territorio regionale e anche su quello provinciale. Sarà compito dell'ERSI, dice la legge regionale, organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, aduzione e distribuzione di acqua ad uso civili, di fognatura e di depurazione. Ancora avanti con il giornale, cambiamo argomento, i bambini delle quarte e quinte classi dell'Istituto Comprensivo 8 di Pescara hanno visitato questa mattina la sede di Pescara dei Carabinieri del NAS per una lezione davvero molto particolare. Vediamo. L'integratore va ad integrare l'alimentazione. Capitano Candelli, oggi avete tenuto una lezione particolare ai bambini della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo 8. Abbiamo visto dei bambini molto molto interessati. Sì, sono interessati perché parliamo di argomenti semplici che comunque vanno nella direzione della sicurezza alimentare. Partiamo da concetti semplici ma vogliamo istruirli, educarli verso gli adulti che sappiano poi quello che mangiano, quello da cui si devono difendere. E quindi diciamo che sono i concetti basilari che vogliamo dare. Ma partiamo proprio dalle nostre attività nella filiera alimentare. Vediamo un po' tutto ciò come si evolve, i vari step della filiera alimentare, cosa noi effettuiamo quotidianamente, i controlli che facciamo. E c'è interesse perché ovviamente i ragazzi sono bombardati di informazioni anche che riguardano la cucina, la buona cucina. Ed è la prima volta che sdoconiamo questo ufficio a una classe della scuola elementare, una quarta elementare, a un paio di quarti elementari in verità, che visitano questi uffici e che vogliono conoscere anche le attività che noi svolgiamo quotidianamente. Noi ci muoviamo e andiamo a scuola dai NAS oggi, proprio per imparare e entrare proprio nelle istituzioni e imparare in prima persona quelle che sono l'educazione alla sicurezza, la legalità. I bambini poi veicoleranno senz'altro le loro famiglie, le loro conoscenze, le riflessioni, fatte veramente in maniera incomiabile qui nella sede dei NAS. E quindi io ringrazio il comandante Candelli di questa grande opportunità e anche gli insegnanti che hanno preparato i bambini a questa occasione. Restiamo sempre nel campo della formazione. Venerdì 26 febbraio presso l'Università degli Studi di Teramo si svolgerà il convegno denominato Parchi capaci di futuro, i parchi per lo sviluppo delle comunità locali, al via anche il Master Jess Lopan. Quali sono gli obiettivi e gli interventi programmati? L'obiettivo del convegno è aprire un ragionamento serio sullo sviluppo delle aree interne e che in Abruzzo vuol dire per forza ragionare con le aree naturali protette e con i parchi nazionali. Al convegno parteciperanno i direttori dei parchi nazionali proprio per capire da loro quali possono essere il futuro della gestione dei parchi. In particolare ci sarà la partecipazione dell'On. Borghi che oltre a essere il Presidente dell'UNCEM è importante il relatore di una serie di normative che riguardano proprio i piccoli comuni, lo sviluppo della montagna e la strategia delle aree interne nazionale. Per cui sarà un'occasione insieme a lui, insieme anche al Presidente di Federparchi Abruzzo e insieme a alcuni docenti dell'Università di Teramo ragionare proprio su quello che sarà il futuro della strategia di sviluppo delle aree interne della Regione. L'Università di Teramo deve e tra i suoi compiti istituzionali vi è quello di intervenire nell'ambito dei territori. Territori che nel caso della Regione Abruzzo rappresentano in termini di protezione una larga fetta del proprio territorio, così come un biglietto da visita della Regione Abruzzo a livello nazionale e internazionale. Per portare a termine però tutto questo tipo di operazione e di progetto servono degli operatori, servono dei protagonisti del territorio che devono essere formati. Noi ci rivolgiamo ai giovani neolaureati che a questo punto possano intraprendere nell'ambito dei territori protetti favorendo lo sviluppo locale e favorendo anche un loro benessere sociale compatibile con l'ambiente nel quale operano. A Pescara i giocatori della squadra del Delfino hanno incontrato i ragazzi dell'Istituto Tito Acerbo nell'ambito del progetto Un giorno per la tua città si è parlato di civismo e legalità. Massimo, oggi Pescara incontra i ragazzi delle scuole è importante laggiare messaggi che riguardano il rispetto, il civismo, l'educazione anche nelle scuole? Eh vabbè, sono messaggi importanti che riguardano la vita comune, l'amore per la propria città, per l'ambiente in cui si vive, quindi noi sappiamo di essere veicoli di comunicazione importanti, importantissimi, fondamentali a volte, dobbiamo dare l'esempio e facciamo quel piccolo che ci consente di poter dare un messaggio positivo. Rispondendo a una domanda di uno studente, poco fa Massimodo ha detto bisogna puntare sempre al massimo, perché solo così si possono raggiungere degli obiettivi. Beh sì, diciamo che questa è l'indole della mia vita e cerco di passare questo messaggio, nel senso nel mondo di oggi dove le opportunità sono sempre minori, qualsiasi tipo di obiettivo tu ti voglia porre, qualsiasi tipo di lavoro, mestiere tu voglia fare, in ambito sportivo o non, devi sempre puntare a essere il migliore, perché con la mediocrità vai poco lontano, quindi devi sempre puntare a essere il migliore, il più bravo per cercare di raggiungere un obiettivo. Sì sì, oggi è stata una giornata veramente importante per la Cerbo, divertente perché i ragazzi sono entusiasti. Siamo veramente onorati di avere la squadra che ci ha motivato gli alunni parlando di tematiche che noi affrontiamo ogni giorno sulla legalità, il rispetto delle regole, sul civismo, ma sentirle dire dai loro eroi sicuramente avrà un'importanza e un'incisività nella formazione degli studenti di notevole spessore. E questo servizio ci introduce alla pagina sportiva, restiamo a parlare del Pescara, ma nell'ambito del campionato. Doppia seduta di allenamento ieri per i Biancazzurri, sono tornati regolarmente in gruppo Caprari, Mandragora e Zampano, lo faranno oggi i vari Lapadula, Torreira e Fornasieri. Il clima all'interno del gruppo è buono, come ci conferma il portiere Aldegani. Aldegani, come si prepara una partita importante come quella con Lascoli? Come state vivendo nello spogliatoio le ore seguenti alla beffa di Cagliari e quelle che precedono questa partita, molto attesa anche dai tifosi? La partita la stiamo preparando nei migliori dei modi, come facciamo tutte le settimane, cercando di dimenticare la sconfitta di Cagliari, anche se c'è da prendere tutto quello di buono, che è tanto, preparare nei migliori dei modi la partita con Lascoli e riscattare la sconfitta dell'andata, perché brucia ancora. Una sconfitta quella dell'andata, che arrivò dopo una partita ben giocata dal Pescara. Pescara che sta giocando bene in queste ultime partite, però a Cagliari è arrivata questa sconfitta. Come si può spiegare, tu che hai visto dall'esterno questa partita? Ma a volte purtroppo nel calcio non sempre chi gioca meglio vince, puoi essere condizionato dagli episodi ed è quello che è successo a Cagliari. Purtroppo forse siamo mancati un pochino a livello di concretezza sottoporta, ma la prestazione c'è stata e giocando così, a mio avviso, difficilmente perderai altre partite. La domanda è sempre quella, più facile raggiungere il Crotone o cercare di accumulare un vantaggio di 10 punti sulle quarte? L'obiettivo nostro è cercare di domenica in domenica di portare a casa il massimo possibile e poi alla fine del campionato si vedrà, anche perché le partite sono tante, il campionato di Serie B regala sempre forti emozioni. Ogni domenica non c'è mai niente di scontato. L'importante è dare continuità le nostre prestazioni e sono convinto che i risultati arriveranno. Ad Aldegani non possiamo non chiedere anche un giudizio sul campionato di Fiorillo e anche di Aresti che è stato impegnato nell'ultima partita di Cagliari, due portieri che stanno disputando una stagione sicuramente positiva. Sì, io sotto quel punto di vista da compagno posso solo dire che per me fanno parte di un gruppo di portieri che sono tra i migliori della Serie B, sia per qualità che per regolarità di prestazioni che stanno facendo e gli auguro il meglio da qui alla fine della loro carriera. Sempre in tema di Pescara, adesso ci occupiamo del bomber La Padula che ha mandato un post su Facebook a tutti i suoi sostenitori peruviani, lo vedete in questo istante, un post ovviamente scritto in spagnolo nel quale l'attaccante comunica che prenderà la decisione riguardo la sua possibile convocazione nella nazionale peruviana, prenderà la decisione solo a giugno a termine del campionato di Serie B perché ha detto vorrei concentrarmi sul campionato e poi ha ringraziato il popolo peruviano che lo ha riempito di un amore immenso, ha scritto La Padula, dicendo di essere sicuro che la forza e il calore del popolo peruviano lo possa aiutare anche nelle sue prestazioni in campo. Ha concluso, una cosa la posso dire, la convocazione nella selezione peruviana è l'occasione più importante che finora ho avuto nella mia vita. Adesso restiamo in Serie B ma andiamo in casa della Virtus Lanciano. L'allenatore Primo Maragliulo analizza la partita di La Spezza e annuncia il turnover per fronteggiare la prossima serie ravvicinata di partite. Nella sofferenza i ragazzi sono stati bravi e chiaramente un po' fortunati a tenere la partita fino all'ultimo minuto. E in questo contesto, in questo arco di partita non posso dimenticare che comunque abbiamo avuto quattro palle e gol clamorose. soprattutto l'ultima come avete ben visto quando Guido ha perso un po' l'equilibrio perché altrimenti sembrava una palla che insomma doveva essere poggiata in porta. Assolutamente non proprio il momento della verità probabilmente ancora no perché ci sono tante partite però un momento determinante dove sarà importantissimo anche centellinare l'energia dei ragazzi. Indubbiamente tre partite in sette giorni bisognerà fare molta attenzione e anche a far recuperare qualcuno e mettere dentro sicuramente qualcuno che in questo momento sta anche scalpitando per poter giocare. C'è quindi l'aspetta era abbastanza sostenuto? Sostenuto non lo so chiaramente non penso di cambiare tutta la squadra però indubbiamente credo veramente che praticamente non possano giocare sempre gli stessi 11-3 partite in una settimana. Sono contentissimo di io credo che tutti gli allenatori possano essere contenti di avere in panchina dei giocatori come Federico che in qualsiasi momento possono entrare e fare la differenza e in altri momenti magari essere presi in considerazione anche per giocare dall'inizio. Scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo atteso nel fine settimana il pronunciamento della Corte Federale d'Appello circa l'eventuale restituzione dei punti di penalizzazione al Diavolo la squadra continua a lavorare in vista della gara di domenica al Bonolis contro la Maceratese il tecnico Vivarini dovrà rinunciare agli squalificati Cruciani e Scipioni e all'infortunato Petrella sull'attuale momento dei Biancorossi interviene il capitano Ivan Speranza Quando perdi una partita è sempre un'occasione persa prima di tutto poi noi ripeto come abbiamo sempre fatto abbiamo guardato sempre partita dopo partita e sicuramente quella era un'occasione importante per vincere e magari pensare a fare qualcosa in più dare un senso a questa stagione cercheremo di farlo sempre non è che adesso abbiamo smesso assolutamente però dobbiamo capire alcune cose per cercare di arrivare a un obiettivo importante sicuramente adesso pensiamo subito a fare punti per salvarci prima possibile poi poi vediamo il presidente come detto tu lo conosco da un po' di tempo quindi sappiamo com'è com'è fatto vuole tanto da noi pretende tanto da noi perché comunque lui non ci fa mancare assolutamente mai nulla quindi è normale questo che un presidente pretende tanto dai suoi giocatori ripeto il suo sfogo è normale lo conosciamo siamo noi i primi a essere rammaricati per aver fatto comunque una brutta prestazione una squadra comunque forte una squadra che comunque sta lottando sta lassù in classifica per noi è un testo importante e quindi ripeto dobbiamo solo noi dobbiamo fare risultato in tutte le maniere dobbiamo cercare di fare bottino pieno tra infortunati e scolarificati sicuramente mancheranno comunque abbiamo tre persone fuori e non sono non sono poche però gli altri che sono in rosa sono lo stesso livello e sicuramente dovranno mettere ancora qualcosa in più rispetto a chi gioca e magari questo ci fa fare la differenza è tutto per questa prima edizione del TG6 io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 19 e alle 23 grazie per essere stati con noi buona giornata a a a a a a a Grazie a tutti.